I rifugisti racconteranno in prima persona le sfide del loro lavoro senza nascondere difficoltà e elementi di complessità. È il risultato di un incontro tenutosi in primiero e organizzato dalla Fondazione Dolomiti Unesco che incannalerà parte dello sforzo di sensibilizzazione nella trasmissione Noi Dolomiti Unesco. Molte persone hanno accettato questo nostro invito per un confronto, per un dialogo, ma soprattutto anche per scambiare quelle che sono delle esperienze fatte nei rispettivi territori. Sono loro i nostri occhi, le nostre orecchie sulle aree core ed è necessario che da questo dialogo si avvii anche una riflessione comune sul tema della frequentazione della montagna, sui limiti che questo deve avere, ma anche sulla necessità di garantire questi presidi anche con infrastrutturazioni efficienti e con strutture adeguate. Questi momenti servono per loro e per noi tutti per crescere ulteriormente e per riuscire a trasmettere quelle giuste informazioni, quei giusti valori alle persone che quotidianamente loro contattano, che quotidianamente incontrano.